Atto intimidatore nei confronti di un esponente dell'amministrazione comunale di Cosenza. L'automobile di Francesco De Cicco, assessore comunale con deleghe alla partecipazione a frazioni e quartieri, manutenzione delle strade e rete idrica, è stata distrutta alle fiamme la scorsa notte. La vettura era parcheggiata sotto l'abitazione di De Cicco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che conduce le indagini. Pare chiara la natura dolosa. Sua verità è stata subito espressa dal primo cittadino di Cosenza Mario Chiuto che ha definito l'accaduto un'azione delinquenziale in piena regola che colpisce tutta l'amministrazione comunale che lavora per migliorare la città. Per lo stesso De Cicco l'invito da parte del primo cittadino a non scoraggiarsi e proseguirne il suo impegno al servizio della gente con immutata motivazione.